Europe, un ciclo che abbiamo inaugurato lo scorso settembre in collaborazione con l'Università Vita Salute San Raffaele e che propone una discussione pubblica intorno alle grandi parole chiave del presente e del futuro europeo, inuguaglianze, diritti, cittadinanza, conflitti, migrazioni. Con Romano Prodi siamo partiti dal progetto europeo, dal suo spirito originario e dal futuro che oggi ci attende. Abbiamo poi ascoltato la voce di Axel Onnet che ha riflettuto sul concetto di diversità e sulle forme e le dinamiche del riconoscimento. Siamo poi passati attraverso un excursus genealogico sulla nozione storica e politica di cittadinanza grazie all'intervento di Massimo Cacciari. Un percorso che come fondazione proseguiremo nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti per l'autunno, naturalmente guardando anche alle elezioni europee che si svolgeranno nella primavera del 2019. Elezioni che in un qualche modo ci diranno anche della capacità dell'Europa di essere uno spazio sovranazionale di partecipazione democratica. Un percorso quello di Ero to Europe in cui, a partire da questo appuntamento, sempre più dovremo riflettere sul ruolo del Mediterraneo e delle migrazioni all'interno dell'agenda politica europea. Non è un caso che questa serata si inserisca per noi nel palinsesso di Insieme senza muri. Il calendario di iniziative legate al tema dell'accoglienza, dell'apertura alle differenze, dell'inclusione della multiculturalità che, come forse saprete, culminerà il 23 di giugno al Parco Sempione con Ricetta Milano, un pranzo multietnico che raduna cittadini di ogni nazionalità intorno a una lunghissima tavolata comune. Con l'incontro di oggi, grazie al contributo di Gabriele Del Grande e della sua esperienza di reporter di frontiera, vogliamo mettere a fuoco la parola ambivalente di confine. In un'Europa divisa tra chi rivendica piccole patrie e innalza nuovi muri e tra quanti cercano di fare breccia nella fortezza europea, per richiamarci al nome del blog di Gabriele. Nella speranza di una vita più degna di essere vissuta, le inchiasse dal confine costituiscono testimonianze, spesso tragiche e violente, che ci dicono quanto le nostre categorie siano ormai fuori tempo ed esuete. Nella lettera al ministro degli interni che Gabriele Del Grande ha scritto nei giorni scorsi, c'è un passaggio in cui dice, mi permetto di citare, forse non ce ne siamo accorti, ma siamo già un noi. Il noi e loro è un discorso antiquato, un discorso che forse suona ancora logico alle orecchie di qualche vecchio nazionalista, ma che i miei figli non capirebbero mai, perché io non riuscirei mai a spiegare ai miei bambini che ci sono dei bimbi, come loro, ripescati in mare dalla nave di una ONG e che da giorni sono bloccati a largo perché nessuno li vuole sbarcare a terra. Chissà, forse dovremmo ripartire da lì, da quel noi e da quelle battaglie comuni. Questo modo di intendere il noi mi sembra particolarmente fecondo e promettente perché invece che rifarsi a una presunta purezza delle origini, a una qualche appartenenza, a un'identità esclusiva ed escludente, si costruisce nello scambio, nel confronto, nell'azione che genera prossimità e alleanze. Un noi che invece di starci alle spalle ci sta davanti, come orizzonte aperto e possibile. Concludo, lasciando poi la parola ai due protagonisti di questa sera con una suggestione. Nel 1973, quando ancora nessuno parlava di globalizzazione, un filosofo cieco, Jan Patuszka, propose l'espressione post-Europa per alludere a una nuova epoca planetaria in cui il vecchio continente avrebbe smesso di giocare il ruolo di potenza storica e mondiale. Di lì a qualche anno, un altro filosofo avrebbe fatto ricorso al prefisso post per segnalare l'emergere di uno scarto decisivo rispetto alle categorie di autorepresentazione con cui l'Occidente si era rappresentato. Si tratta di Jean-François Lyotard e della sua condizione post-moderna, che pubblicò in Francia nel 1979, scatenando un virulento dibattito sulla fine delle cosiddette grandi narrazioni. Viene allora da pensare che se l'Europa come grande narrazione di stampo egemonico è finita, forse l'Europa a cui possiamo guardare per il futuro è fatta invece di storie, di corpi, di nomi, di vite. Quelle storie raccontate da Gabriele del Grande. Storie fuori legge e storie di disperazione, ma anche storie di dignità, di libertà, di determinazione. Forse non possiamo più affidarci alle grandi narrazioni, ma abbiamo degli appunti di viaggio da cui ripartire. Grazie. Faccio salire sul palco Gabriele del Grande e Roberto Mordacci, che ringrazio. Buona serata, buon lavoro. Grazie intanto a Caterina Croce per questa introduzione che ci ha proprio messo sulla giusta strada, io credo, perché il tema di questa sera che affronteremo con Gabriele del Grande è davvero assegnato da due elementi fondamentali, quelli che sono stati ricordati, il tema del confine e il tema della storia. Nelle ultime parole di Caterina c'era una cosa che risuonava e che tocca un po' molto le mie corde. Ed è l'idea appunto della cosiddetta fine delle grandi narrazioni, la fine delle storie, o anzi la fine della storia, come sull'onda di Lyotard alcuni intellettuali che si definiscono postmoderni hanno proclamato. La fine delle grandi narrazioni in realtà non è la fine solo di un certo tipo di racconto della storia della modernità, è in realtà la fine della possibilità stessa di pensare una storia come governata da uno scopo, da una direzione, da un senso. E il postmoderno si presenta come la rinuncia a credere che nella storia vi sia un senso, una direzione, un progresso addirittura, un orientamento che di qualche modo dovrebbe riscattare il senso della storia, l'attesa di un riscatto da ciò che la storia produce, cioè un cumulo di macerie, una serie di ingiustizie. L'attesa di questo tempo a venire che è la storia da scrivere è ciò che il postmoderno in qualche modo dice non va più attesa. E mi sembra che invece lo spunto che ci offriva ora Caterina sull'onda anche delle storie che Gabriele del Grande fra gli altri, ma insomma da par suo scrive, sia quello proprio di pensare che invece e di riconoscere che abbiamo un grande bisogno di storie, di storie come quelle raccontate nell'ultimo libro di Gabriele del Grande che intitola Doula, la storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori, storie intrecciate e collegate fra loro tramite la sua penna di disertori di quello Stato, di persone che sono non semplicemente fuggite dalla loro dominazione, ma addirittura ne erano parte e si sono staccati dal senso che lo Stato voleva imprimere a quella storia, dalla loro narrazione, per scrivere e per finire ad essere scritti in storie personali che a noi dicono molto, molto di più e che però attendono che appunto si colleghino le une con le altre. Abbiamo bisogno di storie perché abbiamo la sensazione, il timore, la paura che la storia non abbia più un senso ed è solo dalle storie cucite insieme che si può pensare di riguardare a un senso possibile della storia senza il quale in realtà nessuna storia può essere raccontata, nella grande e nella piccola, né quella con la S maiuscola, né la storia individuale, se non c'è un tessuto che ci tiene insieme. Uno di questi tessuti che tengono insieme è anche quello del confine. Vorrei dire qualche piccola cosa prima di interrogare, in qualche modo coinvolgere Gabriele in questa conversazione, anzi dargli la parola preponderante. Noi abbiamo bisogno di porre delle distinzioni in questo momento, di porle in modo molto chiaro. Oggi è la giornata mondiale del rifugiato. Questa parola oggi suona in un modo controverso, si chiede di distinguere tra il rifugiato politico che avrebbe qualche legittimità, richiede ospitalità, invece il migrante economico che non avrebbe alcun diritto ad avere ospitalità, nemmeno se si trova in mezzo al mare e sta per affondare perché le cause per cui uno parte non sono così niente, così chiare, non è così evidente che si possa distinguere, fare questa distinzione a priori. Quello che noi incontriamo non sono rifugiati, quando li incontriamo, soprattutto se li incontriamo in mezzo al mare, non sono già o rifugiati o migranti economici, sono persone in mezzo al mare. Qualcosa bisogna fare, secondo il diritto internazionale e secondo la comune umanità. E proprio per questo bisogna riconoscere che c'è un tema, il tema del confine, che però va chiaramente distinto dal tema della frontiera. Vale a dire, che cosa cerca un rifugiato, e questo è già un piccolo pezzo di una domanda che vorrei rivolgere a Gabriele Del Grande. Che cosa spinge una persona a dichiararsi rifugiato, a diventare un rifugiato? Penso che una parte della risposta, ma appunto sono le storie a dovercelo spiegare, stia già nella nozione stessa, nel concetto stessa. Io cerco rifugio, cerco rifugio altrove da una situazione non vivibile, da una situazione che può essere di persecuzione, può essere di pericolo per la mia vita, può essere di insostenibilità anche però sociale e persino economica e anche qui è un concetto che tende a suggire. Tuttavia l'idea di rifugio deve essere importante per noi. Io cerco rifugio altrove, ma non un altrove qualsiasi. E non cerco un rifugio entro un'altra frontiera semplicemente perché un'altra frontiera è altra. Io cerco rifugio in un altro confine, io cerco un rifugio entro il confine che è definito dal diritto, dal rispetto dei diritti fondamentali, dal riconoscimento dei miei diritti di essere umano. Il mio status di rifugiato è quello che chiede il rifugio entro i confini del diritto, dei diritti umani. È semplicemente questo. Il confine da proteggere, quello da proteggere ad ogni costo, quello su cui veramente bisogna lottare per difenderlo, è il confine dei diritti, dei diritti che le costituzioni dei paesi come il nostro, dei paesi europei per esempio, hanno sancito e posto a fondamento della convivenza civile. I confini sono i confini scritti per esempio nella carta dei diritti dell'Unione Europea che sta nel Trattato di Lisbona, quei sei valori che abbiamo ricavato anche altre volte in queste conversazioni, che sono la dignità, la libertà, l'eguaglianza, la solidarietà, la cittadinanza e la giustizia. Ecco, quello è il nostro confine. Tra l'altro è un confini, cioè qualcosa che è un fine, è un limite, ma che contiene, che contiene la protezione, che offre protezione, la protezione del diritto alle persone che accettano e chiedono di vivere in quel contesto. La frontiera è il limite fisico, è il limite varcato il quale diventa possibile o impossibile il confine del diritto. Ora, se la frontiera si chiude per negare i diritti, è una contraddizione. La frontiera che si chiude per negare i diritti è una violazione del confine. È una violazione del confine umano che il diritto pone a protezione di tutti gli esseri umani. Mi sembra che questo vada detto in maniera molto forte e molto chiara, perché spacciare l'erigere di un muro o la chiusura di una frontiera portuale o di altra natura come tutela dei propri confini è una contraddizione in termini. Noi stiamo violando i nostri confini interni se facciamo questa manovra, se chiudiamo le frontiere in questo modo. Se chiudiamo le frontiere a chi hai diritto umano di ricevere assistenza. Questo credo vada detto in maniera molto chiara. Di qui partirei per la nostra conversazione con Gabriele Del Grande. Muovendo un po' da quella constatazione, si parlava del rifugiato e si parla della tua esperienza di persona che ha vissuto documentato le primavere arabe, gli spostamenti attraverso i confini europei. Per chi non lo ricordasse, Gabriele Del Grande è stato autore e regista di quel film che ha avuto un notevolissimo e imprevisto successo che si chiama Io sto con la sposa, che documentava questo attraversamento delle frontiere europee da parte di un gruppo di persone che inscenavano un matrimonio per poter attraversare le frontiere in maniera, diciamo, clandestina ma guidate, appunto, spinti dal fatto che di fronte a un matrimonio c'è, no? Come dire, si lascia passare, si consente a questa vita che nasce, a questa coppia, a questo amore che nasce, qualche tipo di lasciapassare attraverso il tempo. È molto simbolica questa scelta che è stata fatta per questo film, no? Di dire che per celebrare una coppia che nasce si allentano proprio le frontiere, no? Perché si riattiva invece il confine della protezione per l'amore che nasce. Ecco, allora, di là di questo che era la cosa che mi aveva affascinato molto del tuo film, fatto con altre due persone, però la cosa, il punto di partenza è questo, cioè, come nasce, tu che lo hai visto, l'hai documentato, ne hai scritto e ne hai scritto anche in questo libro, l'esigenza insopprimibile di partire. Perché uno si muove. E parliamo innanzitutto di questo, poi parleremo anche del viaggio. Beh, intanto, buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie a voi anche per essere qua, insomma, è un'occasione per provare appunto ad ascoltare, a costruire una narrazione diversa, no? Di quella frontiera, di quel confine che è uno dei cui fini è proprio questo, in realtà, costruire una narrazione. La frontiera è anche una definizione, no? Di un noi, di un loro, di un dentro e di un fuori, che sia la frontiera del cimitero mediterraneo o che sia la frontiera dei centri di identificazione ed espulsione in mezzo alle nostre alle nostre città. Io quella frontiera, quel mondo, ho provato a raccontarlo per diversi anni, dai primi articoli che mettevo online sul blog Fortress Europe nel gennaio del 2006, quindi ormai 12 anni fa, il blog da un paio d'anni è fermo, ma insomma in quei dieci anni lì in qualche modo ho provato, prima, quando ero più giovane, ingenuo, a dare i numeri, pensando che sarebbe bastato fornire le prove, no? Mostrare, dimostrare quanti erano i viaggiatori che a migliaia andavano a morire nei nostri mari, su quelle stesse coste dove andiamo, continuiamo ad andare in vacanza come se niente fosse, in quegli stessi mari dove nel cadane di Sicilia i pescatori ormai sui navigatori a bordo segnano con delle croci, con dei teschi, posti dove non si va più a pescare, perché lì le reti, diciamo, dello strascico si rompono sui relitti del mare, lì insieme al pesce salgono i resti di questa grandissima tragedia, che è la tragedia dei 30.000 e passa morti di viaggio. Quei morti non sono morti, diciamo, per delle calamità naturali, non sono morti per delle tempeste, per dei naufragi o per il maltempo, sono morti di viaggio. Ci sono scelte politiche che hanno creato questo fenomeno ed è un... spesso le cose più banali sono quelle più importanti. Noi ci siamo smessi di ricordare che una volta non c'erano gli sbarchi, ad esempio. Ci siamo smessi di ricordare che prima degli anni 90 questi fenomeni non esistevano. Ormai li diamo per scontato, abbiamo normalizzato non soltanto di convivere con questa grande tomba che è diventato il Mediterraneo, ma abbiamo anche normalizzato l'idea stessa, che da certe parti del mondo ci si possa spostare soltanto in quel modo lì. E non ci chiediamo come mai prima, fino agli anni 90, tutto questo non accadeva. Come siamo arrivati a tutto questo? e vorrei provare appunto a rispondere partendo un po' anche da questo, cioè tenendo insieme un po' le storie ma un po' anche la storia, nel senso perché altrimenti poi si rischia di andare troppo nel soggettivo delle biografie e perdere di vista invece le leggi, quei meccanismi che hanno definito la frontiera e definendo la frontiera hanno poi cambiato lo scenario. Fino agli anni 90 si viaggiava anche dall'Africa fondamentalmente come dal resto del mondo, cioè con un passaporto e con dei visti. Poi progressivamente, man mano che si è fatta l'Europa, man mano che si è investito sulla libera circolazione all'interno dello spazio Schengen, si è andato a chiudere sul rilascio dei visti, in particolare verso una serie di paesi, in particolare verso l'Africa. Se voi guardate l'Europa di oggi, nel frattempo la regia dovrebbe aiutarmi mostrandovi delle cosine. Guardate questa carta, non so se si vede qualche cosa da laggiù, chiazze di colore. Sono i requisiti che servono per avere un visto Schengen, per avere un timbro sul passaporto che ti permetta l'ingresso in Europa. E come vedete questa Europa è un'Europa che per motivi demografici, da decenni ormai importa milioni di lavoratori a basso costo, ha scelto di andarsene a prendere da alcune parti precise. Guardate appunto quello che sono i Balcani, quello che è l'Ucraina, l'est Europa, i nuovi stati membri, il Sud America. I paesi in giallo sono i paesi verso il quale non è richiesto un visto, da quei paesi basta un passaporto, sono stati firmati accordi o di libera circolazione o comunque di estrema semplificazione del rilascio dei visti. Dall'Albania negli anni 90 si partiva con i barconi, oggi l'Albania da ormai sette anni è uno di questi paesi che gode di questi regimi di semplificazione del viaggio. I paesi in rosso invece sono i paesi verso i quali più difficile ottenere un visto, quelli in rosso più scuro sono quelli dai quali è richiesto addirittura un visto anche per il solo transito, anche soltanto per prendere un aereo che fa scalo a Roma diretto magari a Dubai piuttosto che in Brasile o altrove. E non sono paesi casuali, c'è il corno d'Africa, c'è tutto il blocco dell'Iran, dell'Afghanistan, del Pakistan, c'è il Bangladesh, c'è lo Sri Lanka, la Nigeria, il Ghana, ci sono tutti i paesi da dove poi andiamo a trovare le persone che sbarcano in frontiera. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel mondo di oggi a decidere la mobilità, ovvero il potere di acquisto di mobilità che ha un cittadino e il passaporto che ha in mano, questa è un'altra mappa che ci aiuta a capire un po' di cose. I colori più scuri sono i colori dei paesi con il cui passaporto si riesce a viaggiare liberamente nel maggior numero di stati possibile, più invece è chiaro il colore della mappa, sono i paesi in cui i passaporti valgono poco o niente, sono carta straccia e ancora una volta troviamo gli stessi paesi le cui nazionalità compaiono sulle liste degli sbarchi in frontiera in Italia, piuttosto che in Grecia, piuttosto che in Spagna. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se vi dovessi consegnare uno spot, una frase da tenere in mente, gli sbarchi non sono la causa dell'immigrazione ma sono la conseguenza delle politiche sui visti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che l'immigrazione statisticamente parlando non è mai passata né da Lampedusa né da Evros né da Almeria, da Cadiz, da Ceuta o da Meliglia. L'immigrazione in Europa, parliamo di quelle decine di milioni di lavoratori che l'Unione Europea ha importato negli ultimi decenni, sono persone che sono arrivate dall'est Europa, sono arrivate dai Balcani, sono arrivate dal Sud America, proprio in termini numerici. La maggior parte di loro per quanto riguarda l'Italia è arrivata con dei visti turistici, in aereo, in autobus, poi quei visti sono scaduti, c'è il mercato nero, c'è una fase iniziale di clandestinità e poi c'è quella grande fuffa burocratica che sono i decreti flussi, queste specie di regolarizzazioni camuffate per cui si fa finta di tornare nel proprio paese, ci si presenta l'ambasciata con un contratto facendo finta che per la prima volta si va in Italia. Sono anni che questi meccanismi vanno avanti. In tutta questa politica sui visti e sull'immigrazione l'Europa ha deciso di tenere l'Africa fuori. Perché lo abbia fatto andrebbe chiesto a chi ha scritto le politiche di questi anni, ma di fatto il tentativo è quello di pretendere o di ipotizzare, di lasciare fuori dalla mobilità globale l'Africa ed in particolare alcuni pezzi di Africa. Si sono chiuse tutte le vie legali. Fino agli anni 90, ho conosciuto molte persone che vivevano in Italia da 20-30 anni che sono arrivate in Italia col passaporto, con un volo. Dagli anni 90 in poi le procedure si sono fatte sempre più complicate. Oggi da Lagos, piuttosto che da Dakar o dagli Aoundé partono i figli dell'élite, partono i figli dei ministri che vengono a fare shopping da Prada a Milano, vanno a salutare i cugini a Parigi, vanno a studiare a Londra e poi se ne tornano a casa. Invece tutto quello che è, non soltanto le classi più popolari, ma persino le classi medie, non hanno più accesso ai visti. Si sono chiuse tutte le vie legali e conseguentemente, dato che mi insegnate la domanda genera l'offerta, quella domanda di mobilità lì, a quella domanda ha risposto l'offerta del contrabbando libico. Qua abbiamo una mappa con alcune delle rotte. Sono quegli stessi paesi i cui passaporti sono carta straccia, sono quegli stessi paesi ai quali chiediamo dei requisiti persino per dargli un visto di transito se fanno scalo mezz'ora in un aeroporto. Sono quegli stessi paesi da dove chi vuole partire non ha altra opzione che non quella offerta dalle mafie libiche in questo momento. In passato sono state le mafie tunisine, sono state le mafie egiziane. La repressione che si fa in frontiera in un paese o in un altro sposta la rotta in un paese o nell'altro. Ma alla base di tutto c'è una, sono due leggi di mercato, la prima è che la domanda generale offerta e la seconda è che il proibizionismo aiuta soltanto le mafie. Uso apposta questi termini che magari sono anche un po' distanti invece dal lessico che si usa quando si parla di queste cose di solito, che è più appunto riferito al diritto, all'asilo, alla protezione, perché mi interessa che percepiate questa dinamica invece del contrabbando e che assumiamo il fatto che nel mondo di oggi, che è un mondo globalizzato, un mondo interconnesso, un mondo dove si investono miliardi sulla mobilità, pensate cos'è l'Unione Europea, pensate cos'è l'Erasmus per dire una cavolata, quanti soldi si investono, perché è un potere aggiunto, un plus valore quello di poter viaggiare, di sapere un'altra lingua, di avere contatti in altri paesi, sui nostri diciamo si investiamo, su quelli di altre parti del mondo tiriamo sui muri, ma cosa voglio dire? Vuol dire che nel mondo di oggi la mobilità non è lo stato di eccezione, questo lo dico e faccio un discorso, forse immagino insomma il pubblico che è qua, immagino insomma probabilmente avremo tante cose, condivideremo, insomma immagino diversi punti su questi temi, quindi voglio fare un discorso un pochino anche autocritico rispetto al discorso comune che si produce su questi temi, quindi anziché criticare Salvini che è molto più facile, vorrei invece criticare noi stessi quando si è creato in questi anni un discorso come se appunto il viaggio fosse uno stato d'eccezione, come se soltanto la disperazione fosse una motivazione valida e sufficiente per spostarsi da un paese all'altro, quando invece il mondo di oggi è un mondo globale, è un mondo interconnesso, è un mondo dove decine e decine di milioni di persone si spostano da una parte all'altra delle campagne verso le città, da un paese al paese a fianco per mille motivi, io ho conosciuto gente che ha attraversato il mare al rischio della vita per amore, per una chimera, per un sogno, per paura, per raggiungere un parente, in alcuni casi magari anche per motivi invece politici o di persecuzione, ma è soltanto una delle casistiche, ci sono molte casistiche, nel mondo di oggi viaggiare non è uno stato d'eccezione e noi invece abbiamo l'Europa, ha costruito invece tutto un meccanismo, se ci pensate, se provate a guardarlo anche in modo, perché è molto subdolo come meccanismo, noi in frontiera abbiamo un dispositivo di controllo che è fatto di prigioni finanziate in Libia, è fatto di respingimenti, è fatto di tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi 15 anni e che adesso questo governo tenta di replicare sulla falsa riga di tutto quello che hanno fatto quelli che lo hanno preceduto, perché io queste cose le studio da 15 anni e non vedo grossi elementi di novità, mi ricorda Minniti, mi ricorda Amato, mi ricorda Pisano, mi ricorda la Cancellieri, mi ricorda Alfano e accanto a quel dispositivo di controllo di repressione c'è invece un meccanismo di come dire, appunto, misurazione, lo dico un termine un po' provocatorio, misurazione, valutazione appunto della disperazione, nel senso tutto il meccanismo della domanda d'asilo, che da un lato risponde a un sacro santo principio, che è scritto anche in Costituzione, il diritto d'asilo, allo stesso tempo però viene usato, mi pare a me, nella chiave opposta, nel senso che quella misurazione lì ci serve soprattutto a capire quelli che dobbiamo mandare a casa, nel senso che poi alla fine della fiera, in questo momento storico, le domande di asilo che vengono accolte sono una minoranza rispetto al grosso di chi arriva e questo accade per quello che vi dicevo prima, perché in quei paesi abbiamo chiuso le vie legali di viaggio, di spostamento, quindi da quei paesi in questo momento arrivano a via mare anche e soprattutto giovani lavoratori, spinti dalla ricerca di un lavoro, di un salario e della dignità che ne consegue, chi non segue in un posto del mondo, chi in un altro, chi non segue in Europa, l'Europa è una delle mete, non è la meta, non siamo ancora molto eurocentrici, noi ancora ci immaginiamo che di là ci sia il terzo mondo e miliardi di poveri e barbari pronti ad invadere le nostre strade con la loro barbarie, è un po' diverso il mondo e viaggiare probabilmente ci apre gli occhi anche su questo, ma appunto si arriva in frontiera per tanti motivi, si arriva in frontiera in questo momento storico anche e soprattutto per cercare lavoro, noi con quel meccanismo delle domande d'asilo, diciamo da un lato ci mettiamo a posto la coscienza perché rispettiamo il principio d'asilo, dall'altro in tre quarti dei casi, in tre quarti delle domande di fatto mettiamo in piedi quella che è poi la fabbrica della clandestinità, perché clandestini indocumentati, non documentati si diventa, nel senso che si arriva, c'è un processo, alla fine di quel processo come in un gioco dell'oca, dopo un anno, due anni, ricorsi contro ricorsi, si ritorna alla casella del via, cioè si ritorna come se si fosse arrivati il giorno prima in Italia. E tutto questo ha dei costi, che sono prima di tutto dei costi umani, non soltanto le decine di migliaia di morti di questi anni, ma appunto proprio anche i traumi che questi viaggiatori sono costretti a subire. E allora vi inviterei a fare una sorta di esperimento così, immaginario, nel senso di immaginario, che poi è interessante raccontare le storie, è interessante anche immaginarsi delle storie, immaginarsi dei mondi, delle alternative, diciamo così. Cioè oggi, c'è ancora la carta, se voi prendete un ventenne a caso, da uno dei punti di partenza a caso che sono su queste mappe, appunto, diciamo, attraversare metà dell'Africa occidentale, passare il deserto, essere arrestato a Gatrun, piuttosto che a Seba, piuttosto che a Kufra, corrompere le milizie libiche per essere rilasciato, subire in prigione tutto quello che succede, arrivare sulla costa, pagare un contrabbandiere, essere fregato, pagarne un altro, partire, essere respinto, partire una seconda volta. È un'operazione che dura mesi, in alcuni casi dura anni, ed è un'operazione che ha un costo, appunto, sia in termini umani di traumi, sia in termini proprio anche economici. Sono viaggi che magari dall'inizio alla fine ti partono un anno, un anno e mezzo di vita e fra una cosa e l'altra magari hai speso 3.000, 4.000, 5.000 dollari. Cioè, dice, ma allora c'hanno i soldi. No, non è che c'hanno i soldi, ci sono le famiglie dietro che investono su questi viaggi. A volte ci sono i parenti in Europa che investono, a volte si mette in conto che costi 500, 600, poi ti fermano le milizie, devi pagare un riscatto, ti ferma un'altra milizia, paga un altro riscatto, c'è una solidarietà familiare che investe su chi di quella famiglia viaggia, parte, appunto, inseguendo l'America. Ma quei 5.000 euro, facciamo finta che sia questa la cifra. Cioè, immaginate appunto in un mondo diverso, in un mondo, se tornassimo agli anni 90, come dire, in un momento in cui quella stessa persona avesse avuto la possibilità di andare in ambasciata, un'ambasciata europea, perché poi il problema europeo non è una questione italiana, noi siamo la porta d'ingresso sull'Europa, ma insomma la gente viaggia verso l'Europa, non viaggia verso l'Italia. Viaggia spesso cercando di raggiungere appunto delle parenti, amici, insomma delle micro comunità che si ricreano da una parte e dall'altra di questo mare. Se l'ambasciata europea X rilasciasse a quella stessa persona un visto per ricerca di lavoro, che è una cosa che ad oggi non esiste, per quanto mi possa sembrare fuori di senso, non esiste. Esiste in alcuni paesi, anche paesi che non sono esattamente dei paesi progressisti sul tema, penso all'Australia. Io ho una sorella che è migrata in Australia, le pratiche che ha fatto in ambasciata sono passate attraverso la richiesta di un visto per ricerca di lavoro, convertibile in permesso di soggiorno nel caso in cui avesse trovato un lavoro in Australia. Mi sembra delle cose magari banali, stupite, non esistono nel momento attuale. Cioè così come non esiste la possibilità di trasformare un visto turistico in un permesso di soggiorno, anche con un contratto, con un lavoro, con una casa, non esiste. Cioè abbiamo scritto delle leggi con la pancia in questi anni, dal 98 in poi, pensando alle elezioni del giro dopo o ai sondaggi della settimana dopo, un po' come accade in questi giorni, anziché pensando appunto alle questioni, a risolvere i problemi, e le conseguenze sono queste qua, che c'è il monopolio della mobilità sud-nord tra l'Africa e l'Europa ce l'hanno le mafie libiche in questo momento. Decidono loro quanta gente passa, quanta gente non passa, e noi ci scendiamo addirittura a patti. Perché noi adesso ci indigniamo con l'Apsos, con Salvini, perché è il nemico perfetto. Qualche anno fa con Minniti non ci siamo così indignati. I servizi segreti italiani hanno fatto un'operazione, insomma, definire ardimentosa è poco. Noi siamo andati con le valigette di contante a pagare le milizie libiche, soggetti nemmeno statali, milizie che controllavano il territorio, controllavano le città da dove si partiva, che erano colluse con le stesse mafie, in alcuni casi erano le stesse persone che gestivano le partenze, con un ragionamento che era quello ti faccio guadagnare un euro in più a fermarli, anziché a farli partire, cambia mestiere. Fammi da cane da guardia, anziché da mafia del contrabbando. Quanti soldi è costata questa roba? Noi nemmeno lo sappiamo. Alla Turchia almeno sappiamo che gli abbiamo dato 3 più 3, 6 miliardi di euro, perché Erdogan, che ci piace criticare ogni volta che si parla di democrazia, ma poi se c'è da farci il cane da guardia per fermare magari i siriani in fuga da quella stessa guerra in cui la Turchia, ma insomma anche diversi paesi europei, leggi soprattutto Francia e Gran Bretagna hanno delle grosse responsabilità su quello che è successo, ecco anche lì altri mondi possibili, quei soldi là che ci si potrebbe, come sarebbero potuti essere spesi diversamente, se anziché chiudere tutti i canali legali, lasciare alle mafie libiche il monopolio della mobilità sud-nord, se noi ritornassimo a dare i visti, ritornassimo a dare alla gente di quei paesi la possibilità di spostarsi in modo legale con un visto europeo, con la possibilità di viaggiare in Europa, anziché spendere 5 mila euro, spendere magari 3-400 di biglietto e con il resto organizzarsi la vita. Perché dietro, è molto subito il ragionamento, da un lato c'è un discorso dell'accoglienza, dell'assistenzialismo, ma è anche un discorso del controllo, perché ci fa paura l'idea che 100.000, 200.000 lavoratori dall'Africa occidentale possono arrivare in Europa e organizzarsi la vita, in modo indipendente, esattamente come fanno decine di milioni di lavoratori che arrivano da altre parti di mondo. Pensate al paradosso dell'accoglienza, in questo momento ci sono 100.000 e passa persone nell'accoglienza, sono le persone che sono sbarcate, che si trovano bloccate in un limbo che è il limbo burocratico dell'attesa del permesso di soggiorno per motivi di asilo politico eccetera eccetera, che pochi di loro avranno, due terzi, tre quarti dei casi non avranno quel permesso e torneranno senza documenti in mezzo a una strada. Tutti gli altri 5 milioni di lavoratori che sono arrivati in Italia in questi vent'anni sono persone che sono arrivate appunto dalla Romania, dalla Polonia, dall'Albania, dalla Cina, dal Marocco, si sono rimboccati le maniche. Alla fine è il lavoro, quando tu dai alle persone una possibilità legale per spostarsi, per essere fruitori di diritti, perché poi le carte sono fondamentali in questi, altrimenti sì, altro che guerra tra poveri è al ribasso nel mercato nero del lavoro, ma quando tu alle persone dai i diritti con le carte che ti permettono di organizzarsi, di vivere. Noi questa cosa la diamo per assunta verso i cittadini di certi paesi, ci fa molto paura verso i cittadini di altri paesi, è quasi un blasfemo pensare di allentare la presa, di legalizzare il viaggio, è che poi di questo si tratta, di legalizzare la mobilità tra alcuni paesi, in particolare penso all'Africa occidentale, il corno d'Africa e l'Europa, neanche l'Italia, cioè visti europei di ricerca di lavoro, convertibili, impermessi, poi diciamo fatto sacrosanto il diritto d'asilo, ma in questo momento la partita è più grande, in questo momento la partita non è sul diritto d'asilo, in questo momento la partita è su quanti sono? 20.000, 50.000, 100.000, a seconda degli anni persone espulse dai canali legali di viaggio che si rivolgono, bustonano le porte delle mafie libiche del contrabbando, noi quella gente potremmo farla viaggiare in modo legale, in modo sicuro, potremmo veramente dire sbarchi zero, come fa qualcun altro, ma non al prezzo di altri morti, non al prezzo di migliaia di bambini, di donne, di civili arrestati in Libia, nelle prigioni che stiamo finanziando, che le finanziamo da tanti anni, insomma cominciò Pisano, era il 2003 e abbiamo sempre seguito quella linea lì, prima si pagavano le polizie di Gheddafi, adesso si pagano le milizie, ma insomma è sempre la stessa narrazione, cioè l'idea che esista l'opzione mobilità zero, cioè che si possa chiudere la mobilità dall'Africa verso l'Europa, cioè ancora oggi c'è questo grande fantasma, questa grande paura, invece non esiste questa opzione, perché nel mondo globalizzato, nel mondo di oggi, nel mondo dove l'Italia ha all'estero qualche cosa come 3-4 milioni di cittadini italiani che sono andati fuori, io sono uno di loro e non siamo andati via perché c'è la guerra in questo paese qua, siamo andati via ognuno inseguendo delle opportunità, ognuno inseguendo delle storie, perché poi c'è anche il tema delle relazioni, pensate, prima qualcuno mi chiedeva, ho fatto un'intervistina su e mi chiedevano ma come lo vedi il Mediterraneo, ti sembra più una cerniera o un muro? E ho detto beh dipende dai punti di vista, è un po' tutte e due, nel senso che da un lato chiaramente assistiamo a queste stragi consecutive a cui mai abbiamo fatto il callo, allo stesso tempo questi milioni di persone che si sono spostate da una parte e dall'altra, in prospettiva hanno creato milioni anche di relazioni, cioè paradossalmente non siamo mai stati così vicini, così mescolati, così intrecciati, proprio da milioni di relazioni, relazioni familiari, relazioni amicali, relazioni culturali, economiche, che si sono create fra il sud e il nord di questa pozzanghera che è il Mediterraneo. Il problema è che tutto questo avviene dal basso, avviene in direzione contraria alle politiche che invece si mettono in atto, perché invece dal punto di vista politico Mediterraneo non è proprio concepito come uno spazio comune, uno spazio su cui investire, quindi su cui investire anche in termini di progressiva libera circolazione, quantomeno per provare un altro modello, perché il modello della repressione, del blocco totale, fino adesso ha prodotto soltanto morti e ha prodotto spese per miliardi e miliardi di euro, soldi che sono finiti prima al regime di Gheddafi, adesso alle milizie, non si sa bene nemmeno a chi. Io come contribuente non sono tanto contento, perché al fine sono soldi nostri, non è che soldi di qualcun altro, cioè con quegli stessi soldi si potevano aprire asili nido, si potevano costruire case popolari, servizi, investire, perché poi la guerra tra poveri nasce anche lì, da questa narrazione che siamo in troppi sulla barca e qualcuno deve scendere, perché non c'è spazio per tutti, non ci sono servizi per tutti, perché? Perché non ci sono soldi, certo, questi soldi li spendiamo in repressione, in cooperazione militare, in una serie di strutture di repressione che vanno appunto dal Mediterraneo, al controllo del deserto, la frontiera fra la Libia e il Niger, fra la Libia e il Sudan, tutti quei soldi lì come potevano essere spesi? Quella gente là che è andata a morire come poteva viaggiare, come potrà viaggiare? Mi fermerei qui per adesso. No, va bene, ci sono moltissime cose nelle cose che ci hai raccontato che meriterebbero un approfondimento a tutti i livelli. Un primo elemento che io colgo è uno dei tratti delle cose che tu hai raccontato, l'idea che c'è dietro, cioè quella di perché non provare a pensare la cosa folle è un pezzo di quello che io chiamo il pensiero utopico, cioè non lo chiamo io, è così, è il pensiero utopico, cioè anche questo può darsi che sia già capitato nelle nostre conversazioni, c'è la percezione proprio sul fronte della storia nel quale ci troviamo, che la via d'uscita non sia un progettare soluzioni a tavolino, ma quello di azzardare soluzioni improbabili. E questo fa l'utopia, l'utopia non è il pensiero dell'impossibile, che anzi è un pensiero talmente impossibile che non è nemmeno auspicabile, perché se si realizzasse sarebbe totalitario, distopico, eccetera, eccetera. No, 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 quando si legge Tommaso Moro si vede che non c'è niente di distopico, tranne un paio di cosette, insomma. Ma insomma, il punto è, l'utopia è un tipo di pensiero che prova a immaginare, ma se facessimo il contrario, no? Cioè se facessimo, e trovare il punto. Qui il punto che tu hai identificato è il meccanismo che ci hai raccontato ed è sconvolgente per cui si è creato il flusso a causa della politica sui visti. È una denuncia importante che tu fai, credo sia una cosa su cui riflettere molto, perché se è così dobbiamo rivedere veramente tutto quanto di questa politica, ma rivederla secondo una logica che per noi è aliena. Cioè la logica per cui è normale pensare che i flussi in un mondo globalizzato siano cosa quotidiana, non c'è logica emergenziale, c'è la logica della porosità delle frontiere sotto il confine dei diritti di chi viene a cercare un lavoro perché ne ha bisogno. Allora questo è qualcosa che ci richiama alla necessità di provare a saltare i nostri steccati mentali, cioè ci siamo abituati a pensare così, non da 15 anni in realtà, ci sono alcune di queste frontiere culturali all'interno del Mediterraneo che sono profondissime, non possiamo negarlo. C'è una frontiera banalmente etnica che è Africa-Europa e che è ahimè scritta proprio sul segno sulla pelle, che però è una frontiera più psicologica, immediata, davvero che non ha una radicale ragione di opposizione culturale, mentre ahimè conosciamo bene la frontiera est-ovest, che per la tradizione europea-occidentale è la frontiera tra oriente occidente che nella nostra storia è i persiani, poi gli islam, l'impero ottomano è quello che ne segue, quindi quello non possiamo far finta che non esista, non possiamo dire a noi stessi che il Mediterraneo è un grande bacino in cui convivono pacificamente da sempre le tre grandi religioni monoteiste, non è vero niente. Noi abbiamo bisogno di questa opposizione da sempre, sia la Grecia si definiva in opposizione alla Persia, ad Argio, l'Occidente cristiano si definiva in opposizione all'Islam e quindi questa opposizione non può per noi sciogliersi, non ci sarà mai una fusione tra le due e le tre grandi religioni, se includiamo c'è il bisogno di parlare dialetticamente, di riconoscersi e di dire noi non siamo voi e voi non siete noi, ma c'è una coabitazione intorno a qualcosa che è più profondamente legato al nostro bisogno di convivere, al fatto che il territorio è quello che abitiamo, al fatto che esiste appunto il riconoscimento attraverso non solo più il diritto ma semplicemente la solidarietà umana. L'elemento è che non si cancellano le differenze in questo modo, si tengono le differenze proprio per creare una convivenza fra diversi, altrimenti non c'è lo Stato, lo Stato, i medievali, nella trada medievalevo si distingueva fra nazione e set gentes, è una cosa comune nella letteratura quando si andavano cominciando a costituire i primi stati nazionali. Le gentes erano all'interno dell'Europa, erano le famiglie aristocratiche, le famiglie dell'aristocrazia feudale, che in forza di logiche anche di tipo economico, e ma logiche di tipo politico in primo luogo, si univano a costituire le nazioni, che non erano definite a patto su base etnica, quasi nessuno Stato europeo è definito su base etnica, è definito in base a un patto civile fra gentes, quelle sì sono etnie, sono famiglie, fra gentes che riconoscono la necessità di convivere per accrescere la propria potenza, la propria capacità di confrontare, di creare frontiere e confini stabili e di creare economie che funzionino. Allora è chiaro che in questa dinamica quello che tu dici è, una delle cose che tu dici è il fatto di traversare le frontiere non vuol dire affatto che si sciolgano le comunità nazionali, che si perdono, perché il grande timore a cui diciamo uno istintivamente risponde alla tua proposta è, vabbè ma allora poi noi non ci siamo più, no? Io penso che il timore, la pancia a cui si rivolgono i nazionalisti è questa, sì ma allora poi entro 20-30 anni gli italiani non esistono più, i tedeschi non esistono più. Allora questa intanto è una domanda, io ho l'impressione che in realtà stiamo dicendo una sciocchezza, sappiamo benissimo che gran parte delle nostre nazioni sono a crescita vicino allo zero, che una parte della crescita demografica, della stabilità demografica dei nostri paesi dipende esattamente dallo scambio migratorio, scambio che, io parlo di scambio migratorio, non delle migrazioni, cioè parti di noi si rimano, alcuni arrivano, cioè c'è uno scambio continuo. Entrare in questa mentalità è già una questione, però questo apre la seconda questione che vorrei porti e così ti lascio di nuovo la parola. C'è lo stare dentro, c'è il vivere nei nostri paesi, c'è il tema dell'integrazione, se lo vogliamo chiamare con questa etichetta, perché l'esperienza che si è vissuta sul suolo europeo e non solo è quello che questa convivenza è tutt'altro che scontata, è tutt'altro che facile, non solo nel primo impatto, io arrivo, centro di accoglienza o no, o mi respingono o resto e trovo qualche modo per restare, legale o illegale che sia, ma prima generazione, seconda generazione, terza generazione, quelli che arrivavano con i visti, un maligno ti potrebbe replicare, abbiamo visto cosa è successo con quelli che arrivavano con i visti, la seconda o terza generazione si è messa a fare attentati in giro per l'Europa, è brutta detta così. Però, capisci, io sto dando voce a qualcuno con cui io non mi riconosco, ma è il tema di, allora abbiamo fallito sull'integrazione, allora abbiamo fallito non solo sulla politica dei visti, ma sul modo in cui le comunità createsi in forza del scambio migratorio si sono viste o negare il riconoscimento sociale, per cui sono state isolate in ghetti che hanno creato un disagio sociale insopprimibile, oppure c'è qualcosa che non ha funzionato nello scambio reciproco fra le comunità che si sono costituite e lo Stato, nazione, che deve far valere il diritto e l'identità all'interno di un'economia costituzionale. Ecco, è su questo, siccome so che anche su questo, cioè sulla vita all'interno degli Stati, delle comunità nate dalla migrazione, hai lavorato, vorrei che ci dicessi qualcosa. Sempre domande facili, puoi rispondere in poche battute. Sulla paura dell'invasione, che di fatto è la prima questione che poni, cosa sarà di noi se saremo invasi? Queste battute, queste paure, diciamo così, sono state poste ogni volta che si è tolta la frontiera. Pensiamo a, forse non ce lo ricordiamo, pensiamo a un paese come la Romania sono entrati all'interno dell'Unione Europea e prima che diventassero stati membri si è tolta la frontiera, si è liberalizzata la circolazione, si è fatto la stessa cosa con l'Albania, che era un paese da dove avevamo cominciato a conoscere invece con gli sbarchi negli anni 90, si è fatto scorso anno con l'Ucraina, cioè paesi da dove arriva una forte immigrazione. Ogni volta c'era questo timore. In Francia c'era la famosa questione dell'idraulico polacco. Anche in Inghilterra, ho visto l'Inghilterra in quegli anni e c'erano proprio state, mi ricordo, pubblicazioni, studi che erano stati fatti sul tema. Per esempio l'Inghilterra, la Gran Bretagna era uno dei paesi che aveva paura appunto che l'ingresso dell'Unione Europea, soprattutto di Polonia e Romania, avrebbe sconvolto il mercato del lavoro in Inghilterra e quindi, diciamo, mentre l'Italia ha anticipato la libera circolazione soprattutto con la Romania, l'Inghilterra ha aspettato proprio l'ultimo momento e poi sono uscite una serie di statistiche che provavano esattamente il contrario. Cioè provavano che appunto anche lì c'è un mercato del lavoro e c'è una domanda e c'è un'offerta. Il mercato alla fine si autoregola in qualche modo. Non è che arrivano, cioè se il mercato del lavoro ha bisogno in quel momento, in quel frangente, in quel paese, di un tot di lavoratori da importare da un'altra parte, sì, magari ci possono essere all'inizio un po' di picchi, di cose che non funzionano, però poi alla fine la gente viene in cerca di un lavoro, se il lavoro non c'è non è che si ferma per sport, diciamo, a vivere di miseria. Questo è un altro, anche qui c'è un problema, una visione che è soprattutto culturale, un po' forse anche dell'orientalismo, forse anche quasi sotto, nel senso che non riusciamo a vedere la soggettività, la dignità di una persona, di un lavoratore che si sposta da una parte all'altra in cerca di qualche cosa. Dovremmo forse andare a studiare i dati, non sugli arrivi ma sulle partenze, cioè su quanta gente se n'è andata dall'Italia, dalla Grecia, dalla Spagna. Cito questi tre paesi non a caso, che sono i paesi che sono stati più colpiti dalla crisi negli ultimi anni. E se voi andate a vedere le centinaia di migliaia di lavoratori che sono tornati, chi in Egitto, chi in Sud America, chi in Albania, chi in Cina, chi in Marocco. Perché? Perché sono appunto viaggi che si fanno inseguendo delle opportunità. Fintanto che le opportunità ci sono, si rimane, quando non ci sono più, si riparte. Invece noi abbiamo questo racconto, che è un racconto passivo, come se la subissimo, l'immigrazione. E questa cosa viene anche da che cosa? Viene anche proprio dalle immagini degli sbarchi, degli arrivi, di una cosa che sembra inarrestabile, che sembra senza controllo. Se quella stessa immigrazione arrivasse in modo ordinato, uno per uno, in aereo, ognuno con la sua faligia, ma non ce ne accorgeremmo neanche. Cioè a Roma passano qualche cosa come 15-20 milioni di turisti ogni anno e non ce ne accorgiamo nemmeno. Le cifre, in questo momento credo siamo quest'anno, se non sbaglio, sui 10.000, più o meno come ordine di grandezza, di arrivi via mare. Sono cifre ridicoli rispetto a quello che è l'economia europea, a quello che è la società europea e, ripeto, il fa bisogno, perché l'Europa, numeri alla mano, è un continente che da decenni importa, diciamo, mano d'opera a basso costo, per motivi, prima di tutto, demografici. L'altra questione, la questione dell'integrazione, anche lì, è una di quelle parole che vogliono dire tutto e niente, soprattutto che sono usate ad arte dagli imprenditori della paura. Io ricordo quando vivevo a Manchester, era l'anno prima di Brexit, e il tema dell'integrazione riguardava soprattutto gli italiani, i polacchi, i rumeni, gli immigrati, europei, il grande tema era quello lì, visto che si decideva se rimanere o no dentro l'Unione Europea. Io da italiano mi sentivo un po', non riuscivo bene a seguire dove andava il ragionamento di questi politici inglesi. Lo dico perché sono categorie che vengono usate spesso per dire tutto il contrario di tutto. Io credo che l'integrazione faccia soprattutto il lavoro, più che altre cose. E questo è il motivo, credo, per cui chi fa politica su queste cose dovrebbe investire su questo. Quando noi abbiamo, in un paese come l'Italia, noi abbiamo delle leggi sull'immigrazione che prevedono come tappa forzata quella della clandestinità. Perché noi ogni anno facciamo i decreti flussi, i decreti flussi prevedono l'esistenza di un contratto di lavoro, di un ingaggio. E ora è chiaro che nessuno di voi, io sono il primo, mai assumerebbe un perfetto sconosciuto dall'altra parte del mondo, uno che non ha mai visto prima, che non conosce, che non ha visto lavorare, non sa se è una persona seria, se è una persona affidabile. Infatti nessuno lo fa. Le persone arrivano con i visti turistici, scadono i visti, si lavora in nero, ci si guadagna la fiducia di qualcuno e non è neanche il grande capitale, questo grande mostro. Sono spesso magari delle collaboratrici domestiche, badanti, piuttosto che gli operai, piccole fabbrichette, piuttosto che nel tutto il settore agricolo. E quelli con quel foglio in tasca, che spesso si comprano anche, tornano al paese e rifanno il giro dall'ambasciata. Nel senso, la prima cosa da fare sarebbe probabilmente creare, correggere quelle leggi lì e prevedere dei meccanismi, di nuovo, legali. Noi abbiamo bisogno di legalizzare la mobilità, lo spostamento, è un fatto storico che esiste, non esiste l'opzione di chiudere, di non far entrare nessuno. Tanto perché la società ne ha bisogno, in termini tutto economici, e poi perché i problemi di integrazione, che sono soprattutto problemi di miseria, di povertà, di sfruttamento, che si può guardare anche dall'altro lato, vengono soprattutto dalla mancanza di diritti, dalla mancanza di carte. Oggi senza quelle carte non puoi firmare un contratto, non puoi avere un medico, non puoi firmare un affitto. In Italia parliamo di numeri, sono sempre un po' ballerini su queste cose, ma insomma, che dice sono 300 mila, che 400 mila, che 500 mila. E fra l'altro sono anche quelli che più pagano la crisi, perché chi ha un documento, specie se è una carta di soggiorno a lunga scadenza, magari in momento della crisi se ne torna in Egitto o in Albania, investe i propri soldi, insomma c'è anche una circolarità dei movimenti. E noi lo sappiamo bene, perché ripeto, abbiamo 3-4 milioni di italiani che sono immigrati all'estero, quindi ci si sposta seguendo il lavoro, seguendo le opportunità. La questione dell'accoglienza, lo dicevamo prima, questa accoglienza che è diventata di fatto una grande fabbrica della clandestinità, nel senso che uno su quattro, a essere ottimisti, ottiene un riconoscimento, quindi una carta su cui costruirà il proprio futuro, ovvero la possibilità di firmare un contratto e costruirsi una vita, gli altri vengono espulsi alla fine del giro. E neanche espulsi di mandati al loro paese, espulsi proprio nel senso dalla legalità della residenza, non so come definirla, nel senso che gli viene dato un foglio di via, sbrigati, lascia questo paese con i tuoi mezzi e che tradotto significa vai nelle periferie di Milano o di Roma, oppure vai a Rosarno, oppure vai a Cerignola, oppure vai a Cassibile, insomma in quei posti d'Italia dove su questa mano d'opera a basso costo, sullo sfruttamento del mercato nero del lavoro, si costruiscono anche lì delle fortune. E anche lì poi non si capisce perché ce la prendiamo sempre con la vittima, con lo sfruttato e non con lo sfruttatore, anche lì sarebbe da farsi tante domande, chiedersi ad esempio dove è il sindacato, dove sono gli ispettorati del lavoro, sono vent'anni che si fanno le copertine su Rosarno, sullo sfruttamento, sui cantieri e la solita storia, eterno ritorno della solita storia, un po' come con la Libia. Sull'altra questione, anche lì si potrebbe dire tantissime cose, prima dicevi provocatoriamente, l'obiezione da bar di quello che ti dice, però poi il nipote di quello che era arrivato con il visto è andato a combattere in Siria. Si vede quello che è arrivato con il visto, non si vede magari invece il parigino, figlio di parigini, Doc, piuttosto che il belga, piuttosto che le migliaia di persone da tutto il mondo che sono andati lì. Noi abbiamo una rappresentazione anche di quella roba là, i cosiddetti foreign fighters, quindi c'è le persone che si sono uniti, sono andate a combattere con lo stato islamico in Siria, che appunto per tutte le categorie di cui abbiamo parlato fino ad adesso tendiamo a sovrapporre l'immigrazione con la religione dell'islam, l'islam con il terrorismo, l'immigrazione con la criminalità, insomma è un'equazione perfetta, sono una serie di stereotipi che si sovrappongono per cui ci viene quasi in automatico sospettare o pensare che, così come ci viene invece allo stesso modo automatico, credere che chi è andato a combattere in Siria per forza di cose dovesse essere o uno psicopatico o comunque un soggetto molto emarginato che arrivasse da un contesto di povertà, perché associamo ancora una volta povertà e crimine. Quando si vanno a leggere le biografie di altri che sono partiti invece da Tunisi piuttosto che da Riad, dal Cairo, piuttosto che da Amman, troviamo delle biografie completamente diverse, cioè troviamo storie di gente di classe media, troviamo storie di gente che dal proprio paese, dal proprio quartiere, dalla propria famiglia, anche famiglie agiate a volte, prendono e partono. Per dire che probabilmente è tutto molto più complesso di questa semplice equazione, immigrato uguale. Dietro allo Stato islamico, ora non voglio aprire una parabola che ci porterebbe lontanissima, però il ruolo dei cosiddetti foreign fighters è stato molto marginale, sono stati usati più come carne da macello sul fronte che non in ruoli operativi. Nei ruoli operativi, nei ruoli di comando c'erano soprattutto siriani, c'erano soprattutto iracheni, in particolare ex agenti dell'intelligence di Saddam sciolta nel 2003 dopo l'invasione degli Stati Uniti in Iraq. Apriamo un altro capitolo, è tema di un'altra serata. L'ultima cosa che mi viene da dire sarebbe da riformare tutto, le politiche su questi temi qua, ma sarebbe da tenere insieme soprattutto la questione del lavoro e l'altra questione importante è la questione della mobilità all'interno dell'Europa. Che è un tema che in qualche modo un po' goliardicamente avevamo affrontato con Io sto con la sposa, organizzando questo finto corteo nuziale con cui proprio da Milano portammo in Svezia cinque amici di Damasco, palestinesi, siriani che erano arrivati via mare in Italia, era il 2013 e attraversammo queste cinque frontiere europee mascherati a festa, anche lì giocando sugli stereotipi, perché eravamo belli, ricchi e felici, vestiti bene e nessuno mai poteva pensare che quella sposa un mese prima era sotto le bombe a Damasco. Quello però è un tema forte, il tema della mobilità all'interno dell'Europa, nel senso che c'è questa Europa che viaggia a diverse velocità, ha delle economie che viaggiano a diverse velocità, ci sono paesi che hanno una forte richiesta di mano d'opera immigrata, pensiamo alla Spagna quando la Merkel decide di aprire le porte e di accogliere in un paio d'anni qualcosa come un milione di siriani, non solo, non lo fa spinta da uno slancio di bontà e compassione, ma da una serie di rapporti che spiegavano che la Germania aveva bisogno di importare tot centinaia di migliaia di lavoratori negli anni a venire, per i soliti motivi demografici, cioè se cala la forza lavoro poi non si regge lo stesso livello di produttività del paese. Tutto questo accadeva negli stessi momenti in cui l'Italia, la Grecia, la Spagna, colpite da forti crisi economiche, erano paesi che tendevano piuttosto ad espellere forza di lavoro, anche e soprattutto cittadini, cioè italiani, greci o che so io. Invece noi abbiamo tutto un meccanismo burocratico farraginoso, convenzioni di Dublino e dintorni, che ingabbia le persone in un percorso burocratico, tu devi stare in Grecia perché t'hanno preso le impronte, tu in Italia perché t'hanno registrato, tu in Spagna, a prescindere invece dalle condizioni reali del mercato del lavoro di questo continente. Questo è uno dei tanti punti in cui si creano cittadini in serie A e in serie B, perché mentre io come cittadino italiano ho la possibilità di viaggiare, di vivere l'Europa come un unico spazio di libera circolazione, posso andare a cercare opportunità, studiare, lavorare, prendere residenza in un paese piuttosto che in un altro, un cittadino di serie B che in Italia è immigrato da una zona extraeuropea, questa stessa cosa non la può fare e questo secondo me sul lungo andare è problematico, sia per il destino di quella persona, che magari qua si trova disoccupato, senza lavoro, inguaiato, mentre magari avrebbe anche un parente a volte, a volte sono anche circuiti familiari, non necessariamente pubblici, di solidarietà, ed è un problema invece anche proprio per noi, per la società, nel senso che comunque se si accetta che sul territorio ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, quindi alcuni che godono di un tot di diritti ed altri che godono soltanto fino a un certo punto, la cosa è problematica prima di tutto per noi, insomma, come società di diritto, più o meno questo, mille cose. Va bene, allora intanto io ringrazio Gabriele Del Grande. Perché prima di chiudere, per passare alla serata, vorrei che ci fosse lo spazio per qualcuno di voi che volesse di porre qualche domanda a Gabriele e poi magari facciamo una battuta finale, per dare una chiusa. Prego, si avvicini così, ah ok, c'è il microfono là. Buonasera, salve, io visto che si era parlato di utopie, di soluzioni, diciamo fogli o comunque imprevedibili, una vera, passatemi il termine, arma di ricatto nei confronti dell'Europa o non sarebbe la concessione della cittadinanza italiana che poi dà il diritto di mobilità nell'area Schengen a delle persone che ovviamente non ce l'hanno. Grazie. Si, se ne era parlato qualche tempo fa. Comincio a rispondere a queste, intanto chi vuole prenotarsi per una domanda alza la mano e io prendo nota. Sarebbe quantomeno molto divertente, insomma, vedere questa... In questo momento purtroppo lo vedo un po' realizzabile al momento con i personaggi che abbiamo. E anche se poi era tal niente impossibile, vi ricordate Maroni, stessa scuola, nel 2011 di fronte all'arrivo appunto di 20-25 mila tunisini in seguito alla rivolta che portò alla caduta del regime di Benali in Tunisia, rilasciò a tutti loro un permesso, diciamo, dalla sera alla mattina un permesso per motivi umanitari con relativo titolo di viaggio, quando se ne accorsero gli austierci e i francesi, ogni giorno sui treni che passavano di là, c'erano centinaia di tunisini che andavano appunto oltre frontiera, come in teoria era permesso dai titoli di viaggio che venivano loro rilasciati, non la presero molto bene. Però sì, assolutamente avremmo bisogno più di operazioni di questo tipo che non di altro, nel senso, purtroppo però, diciamo, la classe dirigente, politica che ci trovava in questo momento, ahimè, insomma, vari colori, varie bandiere, cercano, inseguono il consenso piuttosto da una direzione opposta, diciamo così. La scorsa legislatura non ha passato la riforma nemmeno sullo Ius Soli, figuriamoci, ripensiamo che cosa è stato, cosa hanno fatto i servizi in Libia durante il governo precedente, vediamo adesso che cosa accade adesso, purtroppo non vedo... Beh, che molto attesto della parola alla signora, è anche perché dipende molto dal senso che tu dai a queste operazioni di slancio un po' utopico, cioè se l'operazione, ricordo che l'idea non era neanche originalmente di Maroni, perché era un'idea che era venuta fuori da D'Alema, questa cosa qua, ma lo scopo dell'operazione era scaricarle sugli altri, voi non ci aiutate a gestire il flusso, beh, allora ridiamo la cittadinanza, poi ci scarichiamo sull'altri, e che certo è un elemento di provocazione, ma se il senso è, ma io riconosco, appunto il processo sarebbe più quello che dici tu, cioè il visto in cerca di lavoro, che poi quando diventa posto di lavoro trovato, si consolida e nel tempo, secondo certe regole, può dare la cittadinanza, allora questo sai, è molto più difficile chiudere la frontiera di fronte a uno così, perché questo ha un lavoro e sta facendo un percorso della cittadinanza che tu hai normato, dire ti prendo e ti do la cittadinanza così a caso, appunto, non è lo strumento del diritto, capito, cioè ci mette in una condizione di debolezza, è una mera provocazione. La signora che aveva alzato una mano può fare la domanda ora, prego, c'è il microfono. Grazie. Dunque, innanzitutto grazie davvero ad entrambi per le vostre sollecitazioni, ovviamente grazie a Gabriele, di cui conosco abbastanza il lavoro, avendo letto i suoi libri e da accademiche a quale sono, con grande invidia, nel senso che c'è, diciamo, una certa libertà nel poter raccontare quelle storie che poi ci permettono di imbastire la storia con la S maiuscola. Io vorrei lanciarvi due, diciamo, uno spunto di riflessione che riguarda innanzitutto la qualità, cioè il tema del lavoro. Lei diceva, o tu dicevi, insomma, lei diceva, diamoci del lei, anche se io ho parlato con te molte volte leggendo i tuoi libri, parlato, ecco. Dunque, il tema del lavoro, l'integrazione attraverso il lavoro, non basta avere un lavoro. Cioè, dobbiamo incominciare a spingere il nostro, diciamo, il nostro pensiero in questo momento utopico, ma direi anche che non dovrebbe esserlo, sulla qualità del lavoro. Basta un lavoro qualunque? No, per integrale. Lo sappiamo benissimo, parlavamo delle assistenti, delle badanti ucraine, ma che integrazione è quella? È semmai un'alienazione di lungo periodo, no? E secondo me questa alienazione di lungo periodo riguarda persone che sono qui anche da vent'anni. Questa è una. La seconda cosa è che, riprendendo un po' quello che ha detto il Signore prima di me, certamente se non si riformano le regole sulle cittadinanza non andiamo da nessuna parte, perché qua, e si innesta anche col proseguo del suo, tuo lavoro, sul tuo ultimo suo libro, sul tema del trattamento delle seconde e terze generazioni. Chiaramente stiamo creando un brodo di cultura, non pericolosissimo, bruttissimo, forse neanche così tanto pericoloso, perché appunto il fenomeno dei ragazzi che si radicalizzano in qualche modo, non solo per andare a combattere guerre altrui, è forte. Però, come dire, se non parliamo di seconda e terza generazione, io sto ospitando una ragazza, una donna, non una ragazza, che ha ottenuto la cittadinanza perché il suo, ma neanche la terza generazione, pensavo fosse terza, il suo tataravuelo, non so come si dice in italiano, il suo bisnonno, ed è italiano. Risultato? Lei è diventata italiana, il marito è diventato italiano in Argentina, i figli sono diventati italiani senza avere nessun legame e rapporto con l'Italia. Giusto lei è venuta in Italia, perché è il sogno della sua vita, inseguendo un sogno ai 56 anni che si può fare anche in avanti. Quindi, secondo me, per non essere atterrite o atterrati, o le due cose, da non poter muovere nessuna bacchetta, perché dalla cittadinanza non si può, dalle seconde generazioni neanche, dalla politica dei vizi neanche, cioè, dacci un segno di speranza. Prego, prego, sì, sì. Così, provo un po' a rispondere a alcune cose, premesso che sono d'accordo su molte osservazioni. Sul lavoro, sì, non basta il lavoro se il lavoro è un lavoro sfruttato, questa è la premessa. La base è quella, nel senso che assistiamo a persone che si è creata, appunto, questa cultura di cittadini serie A e di serie B, lavoratori di serie A e di serie B, ha creato anche una cultura di sfruttamento. Faccio notare che per fare delle lotte, delle battaglie su questi temi, la cosa fondamentale è essere protetti con una carta, un famoso permesso di soggiorno, cioè, spesso, cioè, chi ha un permesso tendenzialmente firma dei contratti, che magari sono contratti nazionali, non c'è un diverso trattamento, chi non ha le carte sono quelli che appunto lavorano magari 400 euro al mese per fare H24, assistere un anziano o un malato nelle nostre case, piuttosto che lavorare nei campi per 20 euro al giorno. Io credo che, cioè, ripeto, non basterà, ma mi sembra l'elemento, diciamo, da cui partire, anche perché è un elemento che ci permette di fare delle battaglie anche comuni, no? E di riportare il livello del conflitto, non, diciamo, a livello di guerra tra poveri, ma a livello di guerra tra, di conflitto sociale tra chi è sfruttato e chi sfrutta. Poi potremmo aprire mille altri dibattiti e discussioni su tutta una serie di servizi, l'insegnamento della lingua italiana, il multiculturalismo, la scuola, ma insomma non è argomento adesso. Sulla cittadinanza dico una cosa un po' provocatoria, nel senso che la cittadinanza è un problema reale, allo stesso tempo diventa un problema ancora maggiore quando, appunto, non avendo la cittadinanza, vivi una situazione di serie B, C, D, E. Perché lo dico? Perché io come italiano ho vissuto in Gran Bretagna, vivo adesso in Grecia e mai mi sognerei di prendere cittadinanza greca e mai mi sognerei di dare la cittadinanza greca ai miei figli. Ma perché? Perché ho accesso agli stessi diritti, alle stesse tutele e non ho bisogno di andare ogni sei mesi a fare la fila di notte in questura per rinnovarmi un permesso di soggiorno che se mi scade finisco in mezzo alla strada io e i miei figli. Per cui, diciamo, se a me ci vorrebbero entrambe le cose, ci vorrebbe da un lato un meccanismo che semplifichi la cittadinanza, che eviti situazioni paradossali, come ha ricordato, allo stesso tempo ci vorrebbero veramente dei meccanismi di semplificazione su tutto quel mondo che sono i permessi di soggiorno, le carte di soggiorno, i visti, cioè quel discorso che dicevamo prima, che in un mondo globalizzato cioè non si può veramente rimanere incastrati, bloccati nelle gabbie delle burocrazie, dal mio punto di vista. E dico soltanto un'altra cosa su, perché è tornato fuori questo tema, questa grande paura della radicalizzazione, siamo tutti un po' spaventati all'idea che dall'emarginazione, dalle sacche di povertà delle nostre periferie qualche d'uno possa radicalizzarsi e andare a combattere, è come è accaduto. Faccio notare che non c'è nel dibattito pubblico una stessa preoccupazione verso l'origine del problema, cioè le guerre. Noi siamo in famosa, diciamo, la stagione della guerra al terrorismo, diciamo così, che va avanti come minimo da più di vent'anni e che attrae, diciamo, soldati da una parte e dall'altra, ma non c'è un discorso, ad esempio, contro la guerra. Noi potremmo fare un discorso, cioè riportare quel dibattito nella storia, andare a vedere, diciamo, quello che è accaduto in questi paesi, come sono nati quella guerra, come sono nati quei conflitti, quali sono stati gli interessi, chi ha investito dove, per cercare anche di decostruire questo racconto e queste paure, perché altrimenti poi diventa tutto quasi un esotismo, un orientalismo, per cui, diciamo, se hai il bollino addosso di immigrato musulmano, piuttosto che allora sicuramente sei uno a rischio perché farai quelle cose là, non è, come dire, una devianza naturale o culturale o esotica, c'è una storia, che è la storia di quei conflitti lì, che andrebbe andata a studiare e andrebbe andata a studiare anche lì, le grandi contraddizioni politiche anche dell'Europa e dei nostri, diciamo, alleati, perché, insomma, negli anni Ottanta la CIA finanziava i mujahidini in Afghanistan perché facevano comodo contro i sovietici, nella guerra in Siria, insomma, la Turchia, piuttosto che alcuni paesi del Golfo, hanno appoggiato una serie di gruppi salafiti armati, compreso in modo indiretto anche lo Stato islamico perché faceva comodo, nel senso, anche lì, ci sono vari livelli in cui si potrebbe affrontare questa discussione e probabilmente anche lì sarebbe interessante cercare di decostruirla a livello forse un pochino più alto. Allora, sì, quella, forse le ultime due le raccogliamo insieme, raccogliamo le ultime due domande insieme, faccio una piccolissima glossa, quello che stai dicendo è qualcosa che mi sembra che vada molto pensato da parte nostra in funzione dell'educazione nostra e delle nostre giovani generazioni, cioè la storia che c'è, è importante, che noi studiamo non è più soltanto la storia europea. Ormai World History, Global History, è tutto, è veramente necessario che riconosciamo, soprattutto nella storia contemporanea, che l'interconnessione dello scenario geopolitico è qualcosa che dobbiamo avere sotto le mani come comuni cittadini, non da esperti che scrivono sull'IMES. Aggiungo, se posso, una frasetta, cioè oltre alla storia bisognerebbe, a parte già accade, ma insomma bisognerebbe investireci un po' di più, andare a vedere anche l'arte, la bellezza prodotta in certi paesi del mondo, che noi, appunto per motivi storici, motivi di conflitti in cui siamo in qualche parte anche convolti, continuiamo a vedere soltanto con lo spettro della violenza, del sangue versato nelle guerre di questi anni in quei posti, e non riusciamo invece a vedere, ad immaginare tutto quello che quei posti hanno prodotto in termini di letteratura, di arte, di musica, di tutto quello che volete voi, perché poi alla fine è la bellezza che ci tiene insieme, insomma è un orizzonte comune, non è soltanto una sensibilizzazione. Due domande, una? Innanzitutto mi piace moltissimo il tuo tipo di narrazione, me l'avevo trovato recentemente in un tuo lungo post, volevo chiederti appunto perché in questo momento, per stare nella tua età in Italia, premesso che c'è una narrazione di tipo sovranista che è abbastanza ovvia, dall'altra parte comunque si prediliga una narrazione che è di tipo emergenziale, che in qualche modo, come osservavi tu, sorvola su quella che è la normalità oggi, la mobilità tra i continenti, su quella che è un banning a monte sui permessi di lavoro, sui visti turisti, dicevo anche sull'avvenire l'altro giorno di una suocera nigeriana che è stato negato il permesso. Su queste cose c'è tutto sommato, c'è anche un ovvio buonsenso nel preferire che la gente arrivi con un biglietto a 300 euro, magari 2000 euro in tasca, senza tutte le spese per i lager libici, ma anche per una buona parte delle cose di accoglienza, eccetera, perché questa cosa come narrazione sia stata obiettivamente omessa anche adesso, comunque si tende ad assimilare quella che è l'immigrazione economica di un continente che tra l'altro, viva Dio, negli ultimi 15 anni ha avuto delle componenti di crescita, almeno alcune nazioni, rispetto a quella che è appunto la visione normale di gente che arriva rischiando la vita, gli sbarchi e quant'altro. Una domanda più politica. Grazie, un'altra domanda. Buonasera, volevo ringraziarvi per questo momento, illuminante direi, sarò più concisa perché in pubblico non è che parli decisamente come gli ultimi due. Volevo fare una domanda specifica riguardo il post-accoglienza, cioè quel limbo di Saint-Papier, è una tematica che raramente viene affrontata quando la si accenna anche a bassi livelli istituzionali, tendenzialmente le risposte sono non se ne parla, non è il momento di parlarne, lo si affronterà quando qualcuno dal Ministero ci darà indicazioni e volevo capire, magari posso darti dal tuo punto di vista, come la vedi? Grazie. In realtà sono entrambe le domande, non so se sono persone indicate a rispondere a entrambe le domande, nel senso che possiamo avervi chiesto alla nostra classe dirigente, politica, insomma sia perché non hanno tentato altre strade, sia perché non affrontano e sciolgono i nodi di questo limbo, come è chiamato giustamente, nel senso che in realtà si potrebbe, gli strumenti ci sarebbero insomma anche previsti dal diritto, magari si dà la cittadinanza a tutti, non è semplice, ma in realtà con un decreto governativo dalla sera alla mattina si potrebbe dare un permesso umanitario a tutti quanti, che significherebbe tante cose, significherebbe appunto ridurre i costi dell'accoglienza, perché le accoglienze sono così lunghe proprio che c'è questo limbo burocratico, gente che arriva qua con i calli sulle mani, con tanta voglia di fare, di riscattarsi, comunque cioè inseguendo un sogno, che anche se è una chimera ma comunque è un'energia che hai addosso, voglia di fare, voglia di riscattarti e quella roba lì piano piano si spenge, perché magari devi stare un anno, due anni, tre anni, parcheggiato in cima, al Monticello, insomma sulle Alpi, piuttosto che sull'Appennino, ad aspettare che arrivi questo benedetto permesso, che poi alla fine in molti casi non arriverà. Ci sarebbero tanti modi secondo me per velocizzare quella fase lì, appunto in maniera più drastica, dare un permesso a tutti, visto che dal punto di vista proprio anche del buonsenso, queste cose si possono affrontare o da un punto di vista giuridico o da un punto di vista proprio del buonsenso, cioè queste persone, neanche Salvini riuscirà a despellerle, perché non ci sono documenti che provano di che paese sono, a volte gente che nemmeno è stata registrata nelle anagrafe, oppure perché purtroppo sono italiani, come ha detto qualcuno. Lì è proprio l'ultima creatura del pensiero, insomma, pseudo pensiero, il male sta negli avverbi. Quindi, esatto, quindi diciamo non, perso il filo del discorso che dicevo, quindi ecco anche in un'ottica salvinista, sono persone che non saranno espulse, quindi finiranno comunque ad allungare le file dei lavoratori senza documenti, quindi con il mercato nero dello sfruttamento del lavoro nelle nostre periferie piuttosto che nelle campagne. Quindi sarebbe anche una soluzione di buonsenso dare un permesso a tutti dalla sera alla mattina, oppure si potrebbero velocizzare i tempi. Io credo che tutto questo sia stato in qualche modo, come dire, deciso, a monte, nel senso che appunto quella politica incapace A di creare una narrazione diversa, B di appunto, su quella narrazione costruire delle politiche diverse, credo che all'epoca, parlo di Minniti ma anche di tutti quelli che c'erano prima, cioè da un lato mentre appunto si negoziava con le milizie in Libia per capire quanti soldi volevano per non farli più partire e invece metterli in prigione e collaborare con l'OIM perché li rivendasse a casa dalla Libia, e nello stesso tempo si è fatto in modo, diciamo così, in modo diretto o indiretto, andrebbe chiesto a loro, di allungare il più possibile i tempi per l'ottenimento di questo famoso documento, in modo che quel limbo lì, io credo, funzionasse da fattore che diminuisse l'attrazione italiana, in senso per scoraggiare nuove partenze, perché probabilmente io credo che il ragionamento contorto sia stato più o meno questo, nel senso che se nel giro di una settimana trovi un permesso, sei libero di spostarti, di andare a cercarti un lavoro, poi magari arriva pure il tuo cugino. Allora, sempre in questa logica della paura dell'invasione, rendiamo tutto più lungo e faraginoso possibile, così guadagniamo tempo, intanto che di là negoziamo con le milizie o con le polizie di quello Stato. Tutto questo, insomma, i risultati sono molto negativi, questo anche al netto della, questo è un discorso che si può fare, si può sparare a zero sull'accoglienza italiana, soprattutto sui meccanismi più di assistenzialismo, salvando la buona volontà di tanta gente che ci lavora, poi c'è anche tanta gente in gamba che ci lavora, c'è anche tanta gente professionale, ci sono anche realtà professionali, alcune le ho viste e conosciute, allo stesso tempo c'è tutto un mondo invece di furbi, di questa roba ci ha marciato sopra in questi anni. Quando qualcuno punta il dito contro il business dell'accoglienza dovremmo avere anche il coraggio di dire che ci sono state e ci sono delle realtà del genere, cioè in realtà che si sono riempiti appunto vecchi alberghi sfitti in posti dimenticati da Dio per riscuotere la famosa diaria dando in cambio niente, se non un piatto di riso e qualche cambio ogni tanto. Per cui da un lato c'è chi lavora bene e dall'altro c'è tutto quel mondo lì. Un mondo di paradossi che secondo me si potrebbe cambiare completamente con delle politiche diverse. Io non lo so perché su tutto questo in questi anni non sia nata una contro narrazione prima ancora che un'altra politica. Non ho la risposta, vi posso dire che come sempre probabilmente il cambiamento arriva prima dal basso e poi piano piano crea una contro narrazione che a sua volta dopo qualche generazione magari arriva alla politica. Poi l'Italia è un paese particolare, non che in altri paesi europei vada meglio, però abbiamo tanti problemi, siamo un paese che anche, oddio non è il caso forse di questo ultimo governo, non è di quello prima, ma fino a pochi anni fa eravamo un paese anche gerontocratico che aveva delle classi politiche di settantenni, ottantenni che neanche erano in grado di percepire il cambiamento che avveniva nella società. Oggi forse è un problema più di classe che non di età, nel senso che poi ognuno vive il cambiamento in questa società a seconda anche dello strato sociale a cui appartiene, nel quartiere in cui vive, nella scuola a cui manda i propri figli. Per cui c'è un pezzo d'Italia che queste cose le vive nel quotidiano e che porta i figli a scuola, all'asilo, alle elementari e c'è a metà dei compagni di classe del proprio bimbo o della propria bimba che sono arrivati a Milano o a Roma da mezzo mondo ed è qualcosa che entra prepotentemente nella quotidianità e che magari aiuta a capire, a costruire, oddio si aiuta non lo so, però insomma in una direzione o nell'altra genera delle narrazioni che possono essere più salviniane o invece magari disegno opposto. Perché la stampa, perché la politica sia lontana da questo e da altri temi non è il solo, vi permetto da dire, non mi sento neanche di rispondere, nel senso che andrebbe chiesto probabilmente conto della distanza, io vedo una distanza non soltanto da questo tema, potremmo stare qui a parlare di tanti altri temi e di chiederci come mai la stampa o la politica sia così in ritardo. Forse è più comodo, più facile invece cercare quelle isole, diciamo, di contronarrazione che ci sono a livello accademico, a livello di giornalismo indipendente e provare a metterle insieme, nel senso provare a fare il ragionamento opposto, diciamo, in positivo. Perché poi ci sono tante realtà interessanti, appunto sia di ricerca, sia di giornalismo, sia proprio anche di quotidianità, di lavoro sociale nei quartieri, nei comuni e forse, anche così, prima che devo andare, c'è un parlamento di speranza. In realtà forse la speranza è quella lì, cercare di trovare, di identificare tutte queste storie positive che comunque ci sono e che forse, lo dico provocatoriamente, avevano bisogno di un Salvini al governo per darsi una svegliata, perché poi quando ci sono gli altri c'è sempre questo effetto un po' cloroformio, a volte c'è bisogno del nemico perfetto, in questo caso appunto l'attuale ministro degli interni per dare un po', suonare un po' la campana, insomma, la sveglia, quindi diamoci da fare. Una bella chiusa. Allora ancora, grazie Gabriele, moltissime cose che hai detto, anche qui l'opposizione con un oppositore politico, una figura di opposizione politica è quella che costituisce il nuovo pensiero, non si crea un nuovo pensiero, dal momento che il pensiero dal quale si è venuti non ha saputo creare una narrazione, forse è da questa opposizione che può crearsi una narrazione di altro tipo. Ricordo che c'è un filo rosso che lega un po' le conversazioni che abbiamo fatto in questi mesi ed è quella per cui sembra, partendo da Axel Onnett, il tema cruciale dei prossimi anni sono le politiche del riconoscimento, che Onnett ha messo in testa uno dei suoi libri più famosi, appunto Lotte per il riconoscimento, cioè soprattutto quel tema dell'integrazione, delle seconde generazioni, eccetera, e se non mettiamo al centro i modi in cui, in primis, come si è detto, attraverso il lavoro, ma siccome il lavoro non basta, attraverso la politica dell'inclusione della comunità di appartenenza, della storia di cui uno è portatore, entro la cornice della cittadinanza e della Costituzione, quella è l'unica, è quello su cui lavorare, cioè l'investimento più grande avrebbe fatto sulle politiche del riconoscimento delle comunità che ormai non si può non riconoscere che fanno parte della comunità civile perché le nostre società sono, si dice da tantissimi anni ma poi non si fa niente, sono società complesse, multiculturali, non c'è niente da fare, sono così e però se non si prende coscienza che la multiculturalità resiste e può esistere solo entro una cornice di riconoscimento reciproco il cui terreno di fondo è, per quanto riguarda l'Italia, la Costituzione non si va avanti, io ricordo qualche anno fa, 5-6 anni fa, anzi ormai quasi 10 adesso che ci penso, fece un lavoro con le scuole medie, andammo nelle 5 scuole di Milano dove c'era la maggiore presenza di ragazzi provenienti da famiglie extraeuropee, 50% dei ragazzi di ogni classe erano costituiti da cinesi, indiani, pakistani e varie altre cose, e beh la cosa curiosa era che per i ragazzi in quelle scuole l'esperienza della convivenza era assolutamente naturale, che lo studio minimo della Costituzione era una cosa affascinante per loro, noi facciamo un lavoro di come vivete, il fatto del multiculturalismo a scuola, ma sapete che la Costituzione dice così e così, no ma fantastico, vuol dire che tutto, cioè che per noi, vuol dire che noi siamo cittadini di questo, cioè queste regole per noi sono regole buone e finivamo scrivendo loro come classe di scrivere una sorta di applicazione costituzionale delle regole della convivenza a scuola, convivenza molto contro la scuola, è stata un'esperienza illuminante perché i ragazzi a scuola non hanno alcun problema a riconoscersi fra di loro come cittadini di un'unica comunità entro regole, il problema nasceva, ci raccontavano i ragazzi quando tornavano nelle comunità d'appartenenza, dove la ghettizzazione, il mancato riconoscimento, la chiusura della comunità stessa, perché c'è una responsabilità delle comunità, le comunità hanno la responsabilità di far valere il principio della Costituzione all'interno della propria comunità, di iscriversi nelle regole del diritto, di non sfuggirle e quindi di emarginare coloro che appunto si radicalizzano, violano la legge, ma questo appartiene a tutte le comunità, non è una cosa che riguarda solo le comunità insediatesi in un secondo tempo. Allora, adesso per chiudere, il tema è, sulle politiche del riconoscimento si gioca il futuro dell'Europa, secondo me è questo un po' la questione da tenere pronto. Quello che tu ci hai detto questa sera è un pezzo importantissimo di questa narrazione da costruire e spero che ci avremo altre occasioni di averti qua a continuare questo tipo di costruzione della narrazione e di avere altri testimoni, altre testimonianze che ci aiutino a costruire alcune storie, alcune narrazioni che vadano nella direzione appunto di questa politica del riconoscimento. Per cui spero che ci si riveda tutti presto, te compreso. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.